Due giovani albanesi di 24 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Gubbio e Nocera Umbra per estorsione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Alla base dell'operazione, una partita di droga non pagata. I due albanesi, residenti a Gualdo Tadino, avrebbero più volte minacciato di morte un uomo di Nocera, noto come assuntore di droga, a causa del mancato pagamento dello stupefacente del valore di 2.500 euro. Ieri l'ultimatum dei due albanesi, ma all'appuntamento l'uomo di Nocera Umbra si è presentato con i carabinieri che hanno bloccato uno dei due estorsori con il denaro in mano. Nel tentativo di sfuggire alla cattura, l'albanese ha sferato calci ai militari che comunque lo hanno bloccato. Anche l'altro albanese, prima di farsi arrestare, ha opposto resistenza. Ora i due sono in carcere a capana.